Eccoci qui come state, un saluto a tutti ben ritrovati, un abbraccio, un forza Minan oggi più che mai, domani ancora di più, sempre e comunque anche di fronte a dei momenti non di grande entusiasmo. Vi ricordo come sempre di commentare numerosi con il vostro punto di vista, ci piace condividere, mi piace quando poi anche tra di voi ci sono i botte risposte sempre con civiltà e rispetto. Lasciate un like per questa nuova stagione, sperando possa essere positiva, e iscrivetevi da questa parte se amate il Minan, se amate il rosso e il nero, la storia di questo club glorioso che merita di tornare a vincere subito, e questi tifosi fantastici. Mi raccomando, iscrivetevi numerosi, chi non si iscrive tifa alla seconda squadra di Milano, quindi vediamo quanti milanisti ci sono, che si iscrivono gratuitamente, quanti non milanisti, interisti eccetera, che sono andati, sono pregati di andare su loro canali e non iscrivetevi. Vediamo quindi con questo test quanti sono i milanisti. Allora ragazzi, primo giorno di lavoro, io non sono un robot, quindi lo dico anch'io, ho dei sali e scendi emozionali, delle volte dico, eh però, altre volte dico sì però, capite? Quindi in questo momento, volevo mettere, buttare giù con voi un po' di pensieri, ma ci sono anche un po' di notizie. Innanzitutto partiamo da una cosa, dai, positiva, volevo commentare rapidamente con voi le parole di Tiago Silva, che è stato compagno sia di Pulisic che di Loftus-Cic fino a pochi giorni fa, dice su Pulisic, mi dispiace perché è un bravo ragazzo, anche Giroud un mesetto fa aveva detto un ottimo ragazzo, ed è bello giocare con lui, è uno anche positivo nello spogliatoio. È un giocatore fantastico, non ha avuto tanta possibilità di giocare con noi l'anno scorso, se viene al Milan farà bene, ha detto. E poi aveva parlato anche di Loftus-Cic, recupero subito la dichiarazione e poi andiamo alle notizie, una che mi fa caponare la pelle, ve lo dico ragazzi. Su Loftus-Cic il buon nostro ex Tiago Silva dice, lo stesso vale per Loftus-Cic, le grandi squadre passano momenti difficili ma poi tornano ad essere grandi, Loftus è un grande giocatore, quindi va bene, parla bene, è vero che non poteva dire diversamente, però è arrivato un buon investitura. Oggi primo giorno per Loftus-Cic, che è la vera faccia nuova, poi c'è Romero che dovremo aspettare, come titolare bentiamo dentro Loftus-Cic. Parto subito da una notizia che non riguarda il Milan, ma di riflesso in generale, perché Milinkovic-Savic, giocatore obiettivo della Juve, sogno dichiarato negli incontri con la società da Mr. Pioli, sogno di tanti di noi, sembra possa approdare nelle prossime ore negli Emirati Arabi per un'offerta mostra dell'Ali-Lal di 20 milioni di euro a stagione. Ora, non voglio entrare nella scelta, ognuno fa quello che crede, va a prendere tantissimi soldi, però ragazzi, questi stanno provando a comprare il calcio davvero, perché noi pensiamo, ma sì, tanto, è una bolla, finisce in fretta, poi tra un anno si sono già stancati. Non è detto che sia così. Loro stanno provando a comprarsi il calcio, e hanno i soldi per farlo, perché stanno iniziando a prendere anche giocatori, non alla frutta, ma giocatori, ripeto, Milinkovic ha 28 anni, è un giocatore fortissimo, e ne stanno prendendo anche altri, quindi non so, se questi continuano, tra qualche anno, ragazzi, l'allarme oggi c'è, secondo me non va ignorato. Cioè, rischiamo non solo di avere la Premier League, ma di avere là un nuovo mondo di calcio, e noi che cosa rimane senza questi? Quindi, un po' perplesso lo sono, sinceramente, e mi dispiace, perché per il calcio italiano è una grave perdita, Milinkovic-Savic, e un pensierino, in certe situazioni, con certi incasti, secondo me lo si poteva fare. Però non è che sfuma per il Milan, sfuma per la Juventus, perché il Milan non si era mosso ufficialmente, se non qualche contatto con i suoi entourage e le richieste di Pioli. Sfuma soprattutto per la Juve, quindi questo non mi dispiace, però mi dispiace che tanti stanno andando da quelle parti lì, in cui il valore calcistico al momento è secondario, un domani chissà. Quindi dobbiamo lottare pure con queste forze economiche clamorose. Oggi, ecco, è un raduno particolare, ecco, che non... Sempre bello quando si ritrova al Milan, Però, se andiamo a vedere oggi i presenti, sono quasi più giocatori che non vorremmo vedere più con la madre del Milan, che quelli che diciamo, e vai, che bello, sbaglio, ce ne sono tanti, ovviamente è la mia un iperbole, però ci sono diversi che speriamo possano andare via. Pioli sperava di avere una rosa ben definita già oggi, Invece una rosa che oggi non è per niente definita, perché il numero 9 non c'è, e i nomi che circolano sono esaltanti, le serone di destra non c'è, Pulisic possiamo anche metterlo dentro anche se non c'è, ma c'è, c'è solo l'Ostus C, che è uscito tonali, sai quello che lasci, non sai quello che trovi, Benasseri infortunato, e c'è anche il fattore che avranno tutti un anno in più, e su qualcuno l'anno in più potrebbe anche pesare, speriamo di no, ma è fisiologico. Pioli spera di avere l'80-90% della rosa completa per la prossima settimana, entro il 21, quando il Milan partirà per la tournée negli States, dove ci saranno diversi amichevoli anche importanti. Quindi abbiamo il Milan 10 giorni per accontentare Mr. Pioli, e se Mr. Pioli ha questo ruolo più importante, più decisionale, accontentiamolo però, se la sua richiesta è, cerchiamo di avere una rosa, poi magari oggi Goffrey Sampa dice il contrario, però se lui ha una rosa definita un motivo ci sarà, il motivo è che cambi tantissimo, e quando cambi tantissimo è meglio lavorare prima e non arrivare un po' lunghi. quindi l'80-90% della rosa significa anche uscite oltre che ad altre entrate, perché Mina deve fare altre operazioni, almeno un terzino, due centrocampisti, l'esterno, l'attaccante, quindi almeno cinque operazioni, che non arriveranno in dieci giorni, quindi speriamo a meno che l'altro centrocampista possa arrivare. Poi dico un'altra cosa, trovo sinceramente un po' assurdo questa poca incisività, poca determinazione che stiamo mostrando, non noi, nel condurre il calcio mercato, perché quando tu incassi 70-80 milioni di euro, due ore dopo devi già annunciare i prossimi acquisti. Cioè è vero che non bisogna buttare via i soldi, però secondo me quando incassi 70 neanche guardare al milioncino. Ad esempio la dichiarazione di oggi, dopo quella del presidente del VRA che i giorni scorsi ha detto sì però Mina deve mostrarci i soldi, perché Mina sta cercando di avere un po' la strategia alla formichina, al risparmio, dopo questo c'è il direttore tecnico della Zeta Alkmar, Uiberts, che dice la prima proposta l'abbiamo respinta, l'abbiamo rifiutata, mentre parliamo una nuova offerta vera non c'è, quindi si può negoziare però. E il Mina ha questa strategia che non ci facciamo prendere così con le spalle al muro, anzi sono gli altri che piano piano dovranno cedere. Lo dico, un anno fa di questi tempi, anzi già un mese fa, un anno fa dice, la strategia era quella, le chitarie ci chiedono 35, vabbè aspettiamo, vedrete che poi scendono, due mesi dopo, abbiamo pagato 35. e in Olanda funziona così, quindi Reinders, che ti serve, che è strategico per il tuo centrocampo, che è un reparto fondamentale che stai ricostruendo quasi completamente, ma portalo a casa, non star lì ad aspettare sempre, questa strategia paga se arrivi con un bilancio negativo, con pochi soldi incassati e senza 70 milioni in sacoccia, invece questo domina anche lo Scorsone, ha fatto il pienone con lo stadio, ha incassato dai botteghini, cifre clamorose, è arrivato in semifinale di Champions, incassando, market pool, UEFA, cifre che non incassavamo da una vita, la campagna abbonamenti, già sold out, 41.500 abbonamenti, venduti così, sulla fiducia, diciamo sulla passione, che non manca mai, e poi oggi Scaroni dice impressionato dalla grande risposta per la campagna abbonamenti, abbiamo tifosi meravigliosi, sono felice che i tifosi possano riabbracciare la propria squadra e sono impressionato dalla grande risposta per la campagna abbonamenti, la migliore degli ultimi anni, abbiamo veramente dei sostenitori meravigliosi, continuiamo nel nostro percorso di crescita tutti insieme, tutti insieme vuol dire tutti insieme, non vuol dire che i tifosi hanno fatto già la loro parte, sono meravigliosi e qualcun altro vivacchia, tira a campare o metti i soldi in sacocia, ragazzi, se consideriamo diciamo un budget da 40-45 che era quello dello scorso anno, più i 70, diciamo non 80 per i suoni buoni, più i 70 di tonali, sono 115 milioni di euro da spendere, da spendere, e a me sinceramente dispiace che per Reinders, che è un giocatore forte da verificare in crescita, non è esattamente Modric, siamo lì a portare avanti le trattative lunghe, estenuanti, telenoveli, che poi solo devi prendere e pagarlo 25, è chiaro, se non è 25, 24, 23, ma non parti da 18, poi ci metti uno di bonus, poi non è ancora presentato un altro offerto ufficiale, però attraverso la gente fa i pervenire delle ipotesi che vengono respinte, andiamo, concludiamo, basta tergiversare ogni volta così, perché poi se arriva la prossima settimana intanto è bruciata una settimana, magari arriva dopo ancora, o magari arriva un club della Premier League che te lo soffia, attenzione, perché questo non sarebbe una sorpresa se arriva un club della Premier da lui un milione in più, da al suo club invece di 25, 28, a quel punto la Z dice no, no, non ne voglio 25, ne voglio 28, quindi ragazzi il tempo è importante, il tempo è fondamentale nel bene o nel male, cerchiamo di sfruttarlo a nostro favore e non che diventi un boomerang, e poi belle, belle parole, sono tante belle parole, ma fin qui, tifosi, voto 10, proprietà, società, dirigenza, a oggi è un'insufficienza, perché una squadra a oggi con troppe incertezze, troppe lacune, troppe priorità non ancora realizzate, e quindi insomma, oggi è il giorno un po' dei primi bilanci non definitivi, ecco, un po' è come se fosse il primo quadrimestre nel calciomercato, il calciomercato non è divertirsi a vedere giocatori, no, è proprio ideotico quella che deve essere poi la stagione, quindi è molto, molto, molto importante, non facciamo che questa diventi una terrenovella anche per rendersi, dopodiché aggiungo un altro aspetto e poi nel prossimo video avremo sicuramente, diciamo così, dei sentimenti un po' cambiati, ma in questo video c'è anche un po' di sfogo, bisogna anche vendere giocatori, bisogna vendere, è chiaro che se devi vendere devono essere d'accordo in tre, società acquirente, società venditrice e diretto interessato, però vendere tonali a 70 sono capaci tutti, bisogna vendere i Rebic, gli Orighi, bisogna vendere magari anche appunto i Messias, c'è Fermento ma finché non vedo non credo, bisogna vendere i Balloture, Florenzi, importante per lo spogliatoio però anche lui c'è il rischio che possa dare pochi minuti e quindi insomma cerchiamo anche noi di quagliare poi è chiaro che ecco una cosa la ribadisco non bisogna usare guanti se tu vuoi far partire cito uno Orighi diglielo tu se resti non giochi usa il pugno duro poi se non basta e resta è chiaro che devi provare a utilizzarlo però partichiare amicizia lunga ribadisco dopo quello detto questa mattina cerchiamo di essere anche noi un po' più concreti non magari direttamente con il giocatore anche ma anche con gli agenti ecco un po' più ci siamo capiti gli temi che cosa ne pensate ripeto dispiace per Milinkovic in generale secondo me un allarme risuona per quello che sta accadendo e con 70 milioni in tasca serviva già oggi una squadra più completa poi magari domani ne arrivano due però ecco siamo un po' a ritardo anche quest'anno siamo un po' a ritardo ed è un ritardo non giustificato perché i soldi li hai e sono anche tanti e vanno spesi condividete questo video sui vostri social se siete d'accordo con me lasciate un like alla nostra community iscrivetevi da questa parte se amate il Milan chi non si iscrive ti fa la seconda squadra di Milano un abbraccio